Ogni giorno, seguiamo la nostra routine. Lavoro, casa, famiglia. Scegna vede, scigna fa. Lavoro, casa, famiglia. Un altro incubo. Lavoro, casa, famiglia. Dormito bene? Io non riesco a capire perché non vuoi chiedere aiuto. Perché diranno che è solo nella mia testa. Perché è solo nella tua testa. Ti prego, Sven. Credo che questi sogni siano il futuro. Se qualcosa di orribile stesse per succedere, lo vedi? Scherzi, sì, certo. Che cos'è? State bene! È questo quello che hai visto? È un'invasione. Se restiamo qui, è finito. Tutto questo... Ce lo aspettavamo da moltissimo tempo. So cosa succederà. Devi fidarti di me. Ci salveremo. Stanno arrivando. I tuoi incubi. Hai visto che ci uccidevano. Papà! Si mi ha vedi, si mi ha fatto. Si mi ha fatto.